Valla Provercelli l'andata della prima gara dei play-off nazionali della Serie C, una vittoria per 2-1 contro il Suttirol meritata, decisiva nel finale al rigore calciato da Costantino che ha permesso alla formazione di Modesto di portare a casa un 2-1 importantissimo che permetterà ai bianchi di disputare la gara di ritorno con due risultati su tre a disposizione. In un primo tempo giocato discretamente bene da entrambe le squadre con la Provercelli che ha sbagliato un rigore all'ottavo minuto con Mattia Rolando, su sinistro è terminato fuori, una conclusione davvero brutta, quella del numero 7, Poluzzi peraltro era sulla traiettoria, al 28esimo il gol del vantaggio del Suttirol su un altro calcio di rigore per fallo di mano da parte di Aua, il rigore è stato calciato da Casiraghi, bravissimo a battere Saro nella circostanza con un tiro molto deciso all'angolino. Nella ripresa la Pro al 56esimo pareggia con Emanuele, un bellissimo calcio di punizione anche se l'estremo difensore altoatesino ha qualche responsabilità sulla rete subita e poi al 94esimo come detto il terzo rigore di giornata, il secondo realizzato, quello decisivo per il 2-1 della Provercelli e ancora una volta con Rocco Costantino, ovvero il proprio uomo del momento. Una vittoria fondamentale per ciò che concerne i padroni di casa, per quanto riguarda gli altotesini servirà una vittoria nella gara del Druso che andrà in scena mercoledì 26 maggio alle ore 17.30 a Bolzano. Da Matteo Mosconi un saluto, un invito a restare collegati sul canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie! 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 Grazie!